La undicesima edizione di Trieste Espresso continua, ci troviamo allo stand della Automatic S.A.S. L'azienda Friulana che è concessionaria di Evoca Group con tutti i suoi brand e siamo in compagnia di Franco Puppin, l'amministratore delegato dell'azienda. Ciao Franco e benvenuto. Ciao, grazie dell'invito. Invito che in questo caso era assolutamente indispensabile perché così come voi supportate questa fiera biennale dedicata al caffè, anche noi siamo presenti. Era assolutamente il caso di venire a chiedere proprio a te che cosa presentate in questa occasione. Diciamo che per noi questa è una fiera molto importante perché copre il territorio nel quale ci proponiamo con tutti i marchi Evoca. Le novità sono diverse, ognuna per un marchio diverso. Proponiamo macchine del settore vending a marchio Necta, proponiamo macchine per l'Oreca, macchine per l'OCS e aspettiamo la visita di tutti i nostri clienti della regione Friuli-Venezia-Giulia ma anche dei paesi dell'ex Jugoslavia. Ecco, allora quali sono i paesi esteri a cui voi fate riferimento? Noi operiamo da diversi anni, oltre una decina, in Slovenia, in Croazia, in Bosnia-Herzegovina e in Serbia. Scendiamo un po' più nel dettaglio a questo punto e parliamo dei vari modelli che esponete. Esponiamo macchine, come ti dicevo, del marchio Necta Vending. È presente la nuova linea barista, nelle due versioni, barista Pro e barista Classic. La versione Classic è la più ricca, la più importante, quella con le migliori prestazioni tecniche. La versione Pro è una macchina un po' più economica, pensata per dare una mano, venire incontro alle esigenze del gestore che in questo periodo fatica a far quadrare il conto economico della singola locazione. Crediamo che questa sia l'offerta più centrata. Ma avete anche tantissime macchine dedicate al settore Oreca, alla prima colazione. Sì, Evoca presenta due marchi in questo settore. È presente come Necta, ma è presente soprattutto con il marchio più prestigioso, Gaggia. E abbiamo una gamma di attrezzature che riesce a dare soddisfazione agli hotel o alle bed and breakfast di qualsiasi dimensione. Proponiamo macchine che lavorano esclusivamente con caffè in grano. Possono lavorare con una o con due miscele di caffè diverse. Con la scelta fra latte in polvere o latte liquido. E qui abbiamo proprio un esempio alle nostre spalle. Sì, stiamo presentando la macchina più recente, una macchina marchio Gaggia. La macchina si chiama Solare Velluto. La desinenza Velluto è dovuta proprio all'alta qualità della proposta latte fresco. Un latte che viene emulsionato in modo molto uniforme, denso. E nello specifico viene lavorato anche a temperatura fredda. Addirittura proponiamo l'abbinamento con un fabbricatore di ghiaccio per dare una risposta a quelle caffetterie più attente alla tendenza giovanile per cui bevande molto lunghe a base di latte freddo con aggiunta di ghiaccio. Infine parliamo dell'offerta tradizionale al settore Oreca e perché no, anche a quella dell'offerta ufficio. Anche in questo caso macchine nuove, offerte che tengono conto di un contenimento del costo della macchina per favorire l'utilizzatore fondamentalmente. Presentiamo una macchina marchio Gaggia, la Vitro, che è un prodotto tecnologicamente molto avanzato ma da un prezzo contenuto. E poi per un livello un po' più alto come numero di erogazioni una macchina marchio Futurmat, sempre del gruppo Evoca, la Sensius. Anche in questo caso tecnologia di ultima degenerazione ma a un prezzo tutto sommato più che contenuto. Franco, infine andiamo a fornire un indirizzo di posta elettronica al quale tutti loro possono scrivere per mettersi in contatto con voi per avere maggiori informazioni proprio su questi prodotti. Certo, il nostro indirizzo di posta elettronica è info.nordestservice.eu Grazie per la collaborazione. Grazie a voi, è stato un piacere. Arrivederci. Grazie a tutti.